ok allora buongiorno liamastro paola e grazie per questa intervista e il titolo del seminario che prossimamente farà il cmtf è l'intervento per il cambiamento nella consulenza tecnica d'ufficio come al giudice come psicologo ecco per cui il tuo contributo fondamentalmente cercherà di mettere in luce qual è l'intervento sistemico che un consulente tecnico d'ufficio può fare in questo tipo di contesto di fornice tu ecco sei una didatta con molti anni di esperienza e vivi a genova è una città bellissima e hai contribuito diciamo alla storia del milano approccio con una riflessione che riguarda sia i contesti clinici sia i contesti non clinici c'è l'intervento sistemico e le differenze che ci sono tra questi due contesti ecco rinnovo il ringraziamento e ti do la parola grazie bene buongiorno a tutti mi fa piacere di partecipare a questa intervista e vi parlerò un poco di quello che è stato il mio contributo al milano approccio nei contesti clinici e non clinici non strettamente clinici ho lavorato per anni nel servizio pubblico e questo ha voluto dire occuparmi di tante ricerche e in particolare anche non solo del avendo istituito nel servizio pubblico un centro di terapia della famiglia dove facevamo diverse ricerche con i miei collaboratori quindi nell'ambito del lavoro con i tribunali perché ci arrivavano queste richieste da parte dei giudici di affrontare situazioni altamente conflittuali abbiamo messo a punto tutta una metodologia diversa di risposta al giudice in caso di consulenza allo stesso e questa metodologia è continuata poi nell'ambito delle consulenze tecniche d'ufficio il tentativo la 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 originalità è stata quella di adattare l'epistemologia sistemica i concetti del milano approccio a questo particolare contesto il che ha voluto dire imporsi alcuni quesiti invece di restituire una diagnosi una fotografia della situazione perché il il quesito del giudice come sapete è quello di dire dica il ctu ad esempio quale può essere la funzione di questi due genitori se sono adeguati o meno rispetto al figlio invece il mio intento è stato quello di dire all'interno di questa marca di contesto come posso assicurare un intervento che permetta di lavorare sul conflitto di queste persone perché lasciare i conflitti così come sono non rispondeva alla mia funzione di psicologo sistemico di terapeuta sistemico allora all'interno di questo contesto che pure era di giudizio e di di diagnosi di fotografia della situazione ho ideato in questa cornice di ctu una una sorta di intervento differente i primi passaggi sono stati quello di comunicare agli avvocati e di chiedere da quando venivo incaricata dal giudice se mi davano il loro consenso a fare un intervento differente per il superamento dei conflitti invece che per il del superamento dei conflitti invece che per la diagnosi e questo cosa ha voluto dire ha voluto dire che sia il giudice scriveva sul sull'incarico che avrei usato una una metodologia sistemico relazionale sia anche rispetto al agli avvocati che mi davano il loro consenso mi davano un tempo e uno spazio per fare un intervento differente ovviamente mi muovevo in questa cornice di perizia in questa cornice eh di tipo peritale però all'interno di questo chiedevo a tutti i sistemi una trasformazione che mi permettesse di passare dalla diagnosi a un intervento per il cambiamento delle relazioni quindi anche con la famiglia quando l'invitavo al primo colloquio faceva una sorta di patto con il diavolo propongo una trasformazione e dico usiamo lo stesso tempo e lo stesso spazio per elaborare la conflittualità e per recuperare quella genitorialità che avete delegato al giudice questo era un passaggio importantissimo perché se accettavano il lavoro veniva fatto sulla conflittualità e non sulla diagnosi allora questo voleva dire anche che se il percorso funzionava alla fine restituivo al giudice una relazione che includeva tutta la storia della famiglia quindi una perizia molto diversa no che includeva la storia della famiglia che includeva il percorso che avevo fatto con loro e come avevano superato la conflittualità quindi alla fine includevo gli accordi che i genitori stessi avevano raggiunto dopo tutto il lavoro che avevano fatto l'accordo sui figli sulla gestione dei figli e quindi è un intervento che trasforma una una consulenza tecnica d'ufficio proprio in un intervento che io ho chiamato l'intervento per il cambiamento delle relazioni ovviamente se questo non funzionava voleva dire che invece recuperavo quella funzione di consulente tecnico più classico però a volte restituivo alla famiglia stessa ad esempio i test che venivano fatti leggendoli con un'ottica sistemica il che restituiva responsabilità comunque ai genitori di fronte a questo fallimento che c'era stato della consulenza tecnica d'ufficio secondo l'approccio sistemico quindi tutto questo che cosa vuol dire che era l'approccio sistemico mi è servito innanzitutto nell'analisi dei del contesto tribunale ctu e famiglia e quindi in una rielaborazione una ridefinizione dei rapporti col tribunale mi sono riappropriata di questa funzione di terapeuta sistemico nel lavorare con le conflittualità e di non restituire al giudice solo una diagnosi e quindi siamo usciti tutti fuori dalla logica di giudizio con attenzione invece alla processualità quindi a questo punto restituendo alla famiglia una riappropriazione di scelta e di competenza perché nell'accordo finale che restituivo al giudice veniva restituito proprio questo sono praticamente i genitori sono ridiventati nel superamento del conflitto che ovviamente è un lavoro molto complesso e complicato perché sono coppie che si squalificano che si odiano che si sono fatti ricorsi denunce e quindi con un livello di alta conflittualità invece hanno ritrovato la possibilità di gestire i loro figli uscendo dal conflitto un'altra particolarità di questa metodologia è che al primo incontro invito quando ci sono i consulenti di parte i consulenti di parte con i quali faccio anche con loro un progetto specifico anzi di collaborazione stretta e invito i genitori e anche i bambini in un clima più colloquiale chiedo loro come vivono cosa fanno ma anche mi faccio dire come stanno vivendo la situazione ci sono dei bambini ultimamente una bambina ha detto io non ne posso più di queste liti di papà e mamma che continuamente non so cosa fare più e poi abbiamo trovato assieme un modo per uscire fuori da questa situazione complicata quindi questo primo incontro un po' la funzione di far dire ai bambini davanti ai genitori come stanno vivendo questa situazione di alta conflittualità e quindi questo diventa un'informazione utile per i genitori l'altra volta una mamma diceva a me mi si è stretto il cuore così a sentir dire come sta male mia figlia per queste liti continue quindi ha un effetto no anche sui genitori stessi quindi questo coinvolgere i bambini ovviamente in un clima molto colloquiale poi raccontare loro che c'è un giudice sì che però si preoccupa anche di loro è un intervento come dire molto rassicurante no nel senso un buon mago no perché ovviamente io usando molto un tonno usando molto le metafore usando molto i racconti le storie e in queste situazioni riesco a parlare anche molto con i bambini a rassicurarli nella loro dicendo che sì in tutto questo periodo hanno fatto un grosso lavoro però ora se ne possono tirare fuori perché i loro genitori verranno qui a discutere sulle cose su cui non sono d'accordo per riappropriarsi ovviamente della loro genitorialità e quindi per occuparsi di loro a tempo pieno e in maniera meno offuscato dalle rabbie dalle ripicche dalle e dagli odi come spesso mi capita di vedere bene Lia grazie credo che tu abbia illustrato molto bene diciamo la specifica di questa situazione no e fondamentalmente anche la differenza tra una consulenza tecnica di ufficio fatto diciamo nella maniera classica quella della psicologia giuridica che si come dire che somministra i test eccetera e cerca di fare una foto una fotografia statica della situazione rispetto a quella che è una consulenza tecnica di ufficio di un consulente che appunto in ottica sistemica conosce quali sono i processi e sa bene che questa foto non può essere come dire che che sovente questa foto altro non è che è un ulteriore passaggio di una situazione traumatica che ha originato nel passato si sta sta pregiudicando il presente e continuerà ad essere come dicono spesso i bambini io non ne posso più perché non passa da una situazione a un'altra eccetera eccetera. E ancora di più aggiungo l'ultima cosa i giudici queste relazioni che io inviavo ai giudici che all'inizio restavano molto sconvolti da queste narrazioni delle storie familiari dal conflitto all'accordo e erano è stata una reazione anche molto positiva nel senso che io in questo modo ho strutturato ho dato un'informazione ai giudici che si poteva utilizzare diversamente una consulenza tecnica d'ufficio e alla fine molti giudici mi chiamavano apposta a fare nelle situazioni altamente conflittuali una consulenza tecnica d'ufficio con l'intento che ci fosse un cambiamento perché se no come dicevano loro io mi ritrovo queste coppie così conflittuali per anni perché sono coppie che veramente per sei sette anni litigano e il giudice se li ritrova dietro la porta quindi la collaborazione di alcuni giudici dei tribunali a Genova o a Livorno dove ho fatto dei corsi o anche in Spagna mi ha dato la possibilità di fare proprio questo intervento che anzi veniva richiesto da loro perché il permanere del conflitto è una cosa come sappiamo dannosissima e che crea grandi problematiche a tutti non solo ai bambini ma anche agli stessi adulti perché si dedicano un tempo infinito inutilmente certo visto i tempi che corrono mi permetto di dire anche ai paesi e alle nazioni i conflitti e trovare come dire dei modi dei luoghi dove quei conflitti possono essere sanati o trovare delle tregue eccetera è molto utile ed è un'emergenza che ci riguarda tutti grazie da vicino grazie Elia grazie a te, tante belle cose, ciao